Ciao a tutti, so che in questi giorni molti di voi stanno utilizzando video per la cosiddetta didattica a distanza e quindi video per raccontare storie, per spiegare nuovi contenuti di apprendimento, per correggere i compiti, per illustrare varie attività che si possono fare a casa e così via. Non è facile fare video, ci sono tantissimi strumenti, molti dei quali costosi, però ci sono alcune web app molto semplici da usare e gratuite. Quella che vi voglio mostrare oggi si chiama Adobe Spark. Adobe Spark è una web app, cioè è un programma che funziona direttamente dal browser, cioè il programma che utilizzate per navigare su internet. Questo è il sito di Adobe Spark. Naturalmente la prima cosa che fa Adobe Spark è chiederci soldi, ma noi resistiamo questo impulso che potrebbe venirci di pagare e cerchiamo invece di rimanere sempre nell'ambiente gratuito, che è quello che ci piace di più. Ci chiede anche di continuare con un account. Io in questo momento con questo computer sono connessa a Facebook, scelgo quindi di continuare con Facebook. Altrimenti utilizzate una delle altre opzioni. Ed eccoci nella pagina principale di Adobe Spark. Adobe Spark, che ha questo simbolo, lo vedete, ha anche un'app per tablet o telefono. Tuttavia l'app per telefono non ha tutte le funzionalità che ha invece la web app. Eccolo qui, per esempio, se non ricordo male, l'app per tablet o telefono permette solo di fare i volantini o qualcosa del genere. Mentre invece con la web app possiamo andare a creare anche dei video, che è quello che ci interessa oggi. Ignoro le varie richieste, ignoro i vari modelli che mi propone Adobe Spark e vado su Crea il mio. Ci vuole un po' di tempo, vi ricordo che questo programma funziona da browser e non con installazione sul vostro PC. Chiudo i suggerimenti, ma ve li potete assolutamente andare a vedere. E comincio a trovarmi finalmente in un ambiente di video editing. Prima di cominciare a fare qualsiasi video bisogna prepararsi i contenuti, quello che vorremmo mettere. Io ho preparato delle immagini, un piccolo video che simula la rotazione dei pianeti intorno al Sole e anche una musica di sottofondo. Il tema è appunto quello del sistema solare sul quale sto lavorando con i miei alunni di quinta. Adobe Spark di default mi dà già tre diapositive o slide, a seconda di come le potete chiamare, che sono l'inizio, i ringraziamenti finali e i titoli di coda. Nell'inizio, che posso lasciare così o posso caricare un'immagine o altro, io decido di lasciarla così, metto il titolo, che è il sistema solare. Poi comincio a inserire le immagini. Clicco sul più e decido che metto una foto del sistema solare. Eccola qua. Come vedete, io nella mia cartella in realtà ho più file, ma nel momento in cui vado ad inserire la foto, lui mi seleziona e mi fa vedere solo le foto. Foto del sistema solare, anche una buona qualità. Vado avanti e nella prossima diapositiva, che creo, metto un'altra foto, per esempio, di Mercurio. Eccola qua, anche questa è una buona qualità. Aggiungo un'altra diapositiva, con un'altra foto, e metto una foto verticale. Allora, il problema delle foto verticali è che lui ve le sistema in questo modo. Se voi volete recuperare la dimensione originale della foto, dovete andare su questa icona con la matitina, cliccare sullo zoom meno, e poi potete anche un po' spostarla, un po' sistemarla. Altrimenti, ve la tenete come lui ve la inquadra. Certo, potete andare su e giù, se preferite per esempio questo pezzo dell'immagine, e non quello sotto, e decidere poi come sistemarla. Sempre meglio comunque le foto orizzontali, secondo me. Voglio però inserire anche, in un altro slide, il video brevissimo che ho scaricato da YouTube con la simulazione della rotazione dei pianeti intorno al Sole. Se io lo lascio così, lui mi dice che il video durerà 3 secondi. Vedete? Ha inquadrato solo questo pezzo. Lo trascino, no? E mi arriva a 30 secondi. Questo perché le slide di Adobe Spark durano al massimo 30 secondi. Mi taglia un pezzettino di video. Questo è un problema. Se invece voglio andare avanti e farlo vedere tutto, devo cliccare su questa icona, Continua clip, Molto gentilmente, mi ricorda che ero arrivato fin qui, Continuo e vado avanti. E salvo. È chiaro che questa clip video durava 40 secondi. Se mettete un video di 5 minuti, questo lavoro lo dovete fare parecchie volte. Quindi valutate seriamente se conviene o meno. Mi fa vedere che i miei due video sono connessi, sono uno nel proseguimento dell'altro. Questa immagine di Giove mi dà fastidio perché io in realtà lo voglio lì, e lo voglio qui. Voglio prima la mia clip qua, dietro le immagini di sistema solare. Quindi vedete che posso spostare molto facilmente le immagini da un posto all'altro. Dicevo che le immagini di default durano pochi secondi. Posso allungare il tempo fino a 30 secondi. Ecco, lo vedete? Sta a me decidere quanto far durare ogni slide. Adesso voglio mettere la mia musica di sottofondo. Quindi vado su musica, qui in alto a destra, aggiungi la mia musica, mi fa vedere anche in questo caso non tutto il contenuto della cartella, ma solo il file che posso caricare, che è una musica di sottofondo con licenza Creative Commons in MP3, che ho preparato con Audacity. Apro e non si vede niente, ma in realtà c'è la musica di sottofondo. Adesso facciamo un'anteprima e vediamo un po'. Non so se si sente. Ok. È molto di sottofondo. Voglio fare l'ultima cosa che mi interessa fare, cioè aggiungere la mia voce. Con lo stesso sistema che usiamo per i messaggi di WhatsApp, tengo premuto il pulsante del microfono e comincio a parlare. Il sistema solare è formato da una stella chiamata Sole e otto pianeti che le ruotano intorno, che sono Mercurio, Venere, la Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Avete visto che mi diceva di non dilungarmi, ok? Perché? Perché al massimo posso stare qui a parlare per 30 secondi. Dopodiché dovrei aggiungere una seconda diapositiva, mettere sulla diapositiva di nuovo l'immagine del sistema solare e continuare a parlare per 30 secondi. Quindi 30 secondi più 30 secondi, un minuto. Sta a me decidere quanto devo parlare e cosa dire. Quello che ho detto è abbastanza orribile, non sono contenta della mia registrazione. Vado qui sul tempo e mi compare Rimuovi voce narrante. Rimuovo e posso ricominciare da capo e di dire le stesse cose che ho detto prima, ma in modo più decente, per esempio. Lo rifaccio più brevemente per la nostra anteprima. Il sistema solare è formato dal Sole e da otto pianeti che gli ruotano intorno. Ecco, questa volta sono stata molto più essenziale. Elimino questa slide perché di fatto non mi serve. La elimino. Lascio il video. Toggo questa foto di Giove perché non mi piace. Ok. Qui non ho nulla da ringraziare tramite che in effetti ho usato la musica di Bensound. Dovrei anche inserire il link come richiesto dal sito Bensound, ma adesso non ho tempo di andarmelo a cercare. Questa, se non abbiamo nessun ringraziamento da fare, nascondiamo i ringraziamenti. Questa invece non si può cambiare. L'abbiamo già visto. Si deve lasciare di. Sono pronta per l'anteprima del mio video. Il sistema solare è formato dal Sole e da otto qui c'è il mio video. Vediamo se funziona bene il punto in cui c'è la congiunzione, se avvertiamo una sorta di stacco. C'è stato un piccolo stop. Non so se l'avete visto. Secondo me era proprio nel punto di congiunzione. Però, insomma, non ci possiamo lamentare del risultato. Si possono studiare i vari tipi di schermo, di layout, tema, la dimensione ci dà solo il widescreen o quella quadrata. La quadrata si usa tantissimo, per esempio, su Facebook. La musica l'abbiamo vista. Queste sono tutte opzioni che vi potete studiare. Siamo pronti a questo punto per condividere il nostro video o inviarlo a qualcuno o più semplicemente scaricarlo sul nostro desktop. Nel momento in cui clicchiamo su Scarica bisogna attendere il download. Ci vogliono diversi minuti, dipende tutto dal tipo di connessione che avete e dalla quantità di materiale che forma il vostro video, la lunghezza temporale, eccetera. Al momento in cui si viene completato il rendering del video, compare una finestra, potete rinominare il vostro video e salvarlo dove volete. In questo caso lo chiamerò banalmente sistema solare. Ecco qui. Il mio file è stato scaricato sul computer, lo ritrovo nella cartella in cui l'ho salvato. Eccolo qui. È questo, sistema solare, in formato mp4. La qualità è decisamente buona. Il sistema solare ha mantenuto un buon livello della risoluzione delle immagini e anche la voce non è male. Il video dura circa un minuto. Se guardiamo nelle proprietà, sono circa 4,5 MB. Mettiamo 5 MB per un minuto, vuol dire che un video di 10 minuti è circa 50 MB, che è una dimensione più che accettabile. Il formato mp4 ci permette di inserirlo in qualsiasi piattaforma, anche su Facebook, su WhatsApp, ovviamente su YouTube. Quindi abbiamo ottenuto un risultato accettabile con un programma gratuito abbastanza velocemente. Spero di esservi stata utile e come sempre vi auguro buon lavoro.